Eccoci qui ragazzi in un nuovo video, primi giorni del 2023, quindi in questo video quello che faremo è andare a fare delle previsioni di alcune cose che potrebbero succedere nel 2023. Ovviamente sono avvenimenti in campo finanziario, in campo economico e in campo tecnologico, quindi degli avvenimenti che potrebbero avere una certa influenza, un certo impatto sulla nostra vita. Tenendo in considerazione ovviamente che non sono nostro Adamus, quindi sono cose che potrebbero succedere, cose che mi aspetto, staremo a vedere se effettivamente si concretizzeranno. Quindi come sempre ragazzi siete nuovi su questo canale, vi piacciono questa tipologia di contenuti, quello che vi chiedo è di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale, perché in questo modo mi aiutate tantissimo con l'algoritmo di YouTube e in più mi fa molto piacere. Allora, prima previsione, ChatGPT diventerà sempre più mainstream e utilizzata iniziando ad avere un certo impatto su determinati lavori. Per chi non lo sapesse, ChatGPT è un modello di linguaggio sviluppato da OpenAI ed è stato addestrato su un'enorme quantità di dati. Per farla quindi super semplice è un chatbot di intelligenza artificiale, quindi qualsiasi dubbio io abbia, vado su ChatGPT, vi faccio la domanda e teoricamente mi risponde in maniera molto accurata. Voglio per esempio che mi racconti una storia fatta in un certo modo, me la racconta, sto lavorando a un progetto, un dubbio di qualsiasi natura, sto studiando un qualcosa e non mi ricordo come applicare quella formula eccetera, ChatGPT mi aiuta e mi dà la risposta. Mi dicevo questa intelligenza artificiale che è stata creata da OpenAI, che è questa azienda che è stata fondata nel 2015 da Elon Musk e altri imprenditori tech. Direi che per rendere le cose più semplici per chi non avesse mai sentito parlare di ChatGPT andiamo a fare un esempio pratico. Allora, per capire come funziona ChatGPT faremo un 2-3 domande. Innanzitutto partiamo con una domanda molto basica. Quindi gli chiederemo di spiegarci che cosa sono le criptovalute come se fossi un bambino di 5 anni. Quindi vediamo che tipo di risposta ci dà. Come possiamo notare nel momento in cui noi andiamo a fare la nostra domanda ci viene trascritta la risposta nel giro di qualche secondo. Ora, come possiamo notare la risposta è molto basica proprio perché gli abbiamo chiesto di spiegarcela come se fossimo dei bambini di 5 anni. Chiediamoli però ora invece di spiegarci che cosa sono le cripto ma in maniera più elaborata e complessa. E come possiamo notare inizia subito a darci una risposta molto più elaborata e molto più complessa. Da qui si capisce subito una differenza molto particolare. Questo è il motivo per cui gli ho fatto queste due tipologie di domande. Quindi la capacità di capire il tipo di risposta che sto cercando. Quindi prima gli ho detto spiegamela come se fossi un bambino di 5 anni. E l'intelligenza artificiale ha capito che doveva darmi una risposta molto basica. E poi invece ha capito che voleva una risposta più elaborata. Posso in questo caso dirgli anche, non lo so, dimmi di più e continuerà ad andare avanti nel darmi informazioni relative alle cripto. Pure per capire ancora meglio la potenza di chat GPT, nonostante in questo momento sia solamente in fase di beta test, quindi proprio il prodotto grezzo, andiamo per esempio a chiedergli di farci il riassunto di un libro a caso. Invito chiunque a provare. Per esempio l'ultimo libro che ho letto personalmente è 12 Rules for Life di Jordan Peterson. Quindi chiediamoli se riesce a farci un riassunto di questo libro. E nel giro di qualche secondo ci ha fatto il riassunto dei punti più importanti, punti fondamentali di questo libro. Quindi ragazzi, come possiamo notare, l'intelligenza artificiale nell'ultimo periodo ha fatto passi da gigante. Un'altra cosa a sapere in questo caso è che Microsoft ha pesantemente investito in OpenAI, quindi in questo momento non è possibile investire in OpenAI perché è un'azienda privata. Probabilmente il modo migliore sarebbe quello di esporsi a Microsoft. E qui però andiamo alla seconda previsione. Ecco, la seconda previsione è che Google nel 2023 uscirà fuori con il proprio chat GPT, che ovviamente non sarà chiamato probabilmente chat GPT, ma sarà chiamato, non so, Google AI, o comunque avrà un determinato nome, ma il servizio sarà molto simile a quello di chat GPT. Questo perché? Perché se teniamo in considerazione che in questo momento chat GPT si trova solamente in fase di beta test e obiettivamente il servizio che offre è già molto superiore rispetto a Google, a mio personale parere, nel momento in cui Google non uscirà fuori con il suo servizio analogo, a quel punto OpenAI andrà a prendere una grossa fetta di mercato e probabilmente a creare dei seri problemi a Google. Quindi non penso che quelli di Google siano così sprovveduti da non aver lavorato a un servizio del genere nel corso degli anni e non aver investito miliardi nell'intelligenza artificiale, quindi mi aspetto che usciranno fuori con un servizio analogo. E devono farlo al più presto, perché teniamo anche in considerazione una delle leggi del marketing, che è la legge della leadership, che ci dice che il successo appartiene a coloro che sono i primi a creare una categoria di prodotto nella mente del pubblico. Questo significa che Google dovrà darsi una mossa, perché ChatGPT è sul mercato da neanche un mese e nel momento in cui io penso a intelligenza artificiale, a chatbot di intelligenza artificiale, mi viene in mente solo ChatGPT. Faremo a vedere quindi se anche Google ci sorprenderà, o meglio, non mi sorprenderà nel 2023. Altra previsione, i tassi di interesse verranno mantenuti, alti o potenzialmente alzati continuamente, almeno fino alla metà del 2023, se non anche fino al terzo trimestre del 2023. Qualcuno che pensa che i tassi di interesse verranno mantenuti alti anche nel 2024, almeno fino agli inizi o metà 2024, in questo momento personalmente non credo che sia questo il caso, a meno che le cose poi non cambino, perché mi aspetto che già tra la metà e la fine del 2023 l'economia sarà già abbastanza in ginocchio. Tra un attimo infatti andremo anche a vedere le prossime previsioni. Recentemente, giusto un paio di giorni fa, Jerome Powell, il presidente della Fed Air Reserve, ha detto che quello che la Fed non vuole fare è l'errore che era stato fatto negli anni 70-80 da Paul Walker, che era l'attuale presidente della Fed Air Reserve. Infatti negli anni 70 l'inflazione aveva superato addirittura il 12%, erano stati alzati i tassi di interesse, l'inflazione era scesa drasticamente, a quel punto decisero di tagliare i tassi di interesse, e nel giro di un paio d'anni l'inflazione ricominciò a salire, facendo un nuovo massimo storico, andando addirittura a toccare il 15%. Furono poi alzati nuovamente i tassi di interesse, pensate, fino al 20% e nel giro di qualche anno l'inflazione tornò al 2%. Però questo fu un errore fatto dagli esponenti della Fed Air Reserve. E Jerome Powell ha detto che non vogliono più fare, però questo errore che è stato fatto in passato, lasciando intendere che vogliono mantenere i tassi alti per un bel po' di tempo. Però c'è un però. E cioè che per ora, le cose ovviamente potrebbero cambiare, farò degli aggiornamenti, ma per ora mi aspetto che i tassi saranno fermati o addirittura tagliati tra la metà e la fine del 2023, per pressioni da parte del governo degli Stati Uniti. Perché questo? Perché tassi alti significa crollo economico, significa spaccare in due l'economia, alzare il tasso di disoccupati, e nessun presidente obiettivamente vuole sotto la propria presidenza un'economia così debole, una recessione pesante, una forte recessione. In questo caso c'è bisogno di una recessione per andare ad abbassare il tasso di inflazione, ma ripeto, non mi stuperei per niente di vedere delle pressioni da parte del governo degli Stati Uniti, nei confronti in questo caso di Jerome Powell, di obbligarli o comunque convincerli ad abbassare i tassi di interesse. E con questa previsione ci ricolleghiamo sempre ad un'altra. Nel 2023 mi aspetto che il settore immobiliare riceverà una bella botta, quindi ci sarà un ulteriore crollo del settore immobiliare. Infatti il settore immobiliare nell'ultimo periodo ha creato una sorta di bolla speculativa. I prezzi degli immobili sono saliti tantissimo, anche e soprattutto in America, ma possiamo dire anche in Italia, in giro per l'Europa, per il mondo in generale. Nell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimi mesi, abbiamo visto un primo calo del settore immobiliare, complice ovviamente il discorso dell'innalzamento dei tassi di interesse che ha reso l'acquisto di case molto più sconveniente, molto più costoso, se ne sono accorti molti di quelli che in questo momento stanno pagando un mutuo a tasso variabile. Inoltre assumiamoci anche il fatto che anche pagare un affitto per molti è diventato più complicato per via dell'inflazione, quindi più spese, anche il pagare l'affitto in questo caso diventa più complicato. Quindi tutta questa serie di fattori, a mio personale parere, farà continuare questo primo accenno di crollo del settore immobiliare. In questo momento, come possiamo notare da questo grafico, il settore immobiliare ha raggiunto valutazioni anche più alte rispetto alla grande bolla immobiliare del 2008. Quindi, ripeto, nel prossimo periodo non mi stupierei di vedere la continuazione di questo crollo, anzi, più che non mi stupierei, mi aspetto un crollo del settore immobiliare. Passiamo quindi alla prossima previsione che anche questa è collegata, nel 2023, molto probabilmente, sempre dalla metà del 2023 in poi, si inizierà a parlare ufficialmente di recessione. Perché dico ufficialmente, in realtà io ho mesi che parlo di recessione, però come abbiamo ben potuto notare, soprattutto, il governo degli Stati Uniti ha cercato di ridefinire un po' quello che è il senso e il significato di recessione, perché in passato che cos'era una recessione? Tecnicamente si è sempre entrati in recessione dopo che per due trimestre di fila il GDP, quindi il prodotto interno lordo di un paese, in questo caso gli Stati Uniti, usciva fuori negativo, cosa che è successa nei mesi precedenti. Ma la Casa Bianca e i media americani hanno cercato di disfarsi di questa definizione dicendo no, non siamo assolutamente in una recessione. Effettivamente potremmo dire che nei mesi scorsi, anche se abbiamo fatto due trimestre di fila con il GDP in negativo, la disoccupazione non era messa così male, e quindi se proprio volessimo chiudere un occhio possiamo farlo, ma dalla metà alla fine del 2023, a mio personale parere, sarà normale parlare di recessione. Quindi non sarà più un tabù e non sarà più un qualcosa che i media, e in questo caso i governi, nasconderanno. Altra previsione, anche questa è sempre ricollegata all'ultimo punto, nel 2023, sempre tra la metà e la fine del 2023, aumenterà, e anche parecchio, il numero di disoccupati. Anche in questo caso sarei sorpreso se avvenisse il contrario, che quindi non aumentasse il numero di disoccupati, perché è mesi che ne parlo, che queste politiche monetarie che sono state attuate dalla Feda Reserve servono proprio a questo, aumentare il numero dei disoccupati e a portare l'economia in recessione. Sempre per il discorso di cercare di abbassare il tasso di inflazione. Abbiamo già notato negli ultimi mesi che un sacco di aziende, soprattutto le aziende tech, hanno lasciato a casa decine di migliaia di dipendenti. È uscita fuori anche la notizia due giorni fa, forse addirittura ieri, che Amazon ha deciso di lasciare a casa ulteriormente 17.000 dipendenti in giro per il mondo e così faranno anche altre aziende. Però un qualcosa che mi aspetto è che nel 2023 si parlerà molto di più di disoccupazione rispetto che di inflazione. Altra previsione per il 2023, mi aspetto che Bitcoin nel 2023 toccherà il fondo, quindi andrà a fare il bottom per poi riprendere a salire tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024. Attenzione ovviamente questa è solamente una mia opinione che potrebbe anche non concretizzarsi e chi mi segue sa molto bene che non è che sono un Bitcoin maximalist, io non ho la più pallida idea di dove sarà Bitcoin tra 10-15 anni e non ho idea se cambierà davvero la finanza al mondo oppure no. Quello che io faccio con le crypto e con Bitcoin è guardare la price action, fare analisi tecnica, fare trading, cercare di capire la psicologia dei mercati, fare analisi macroeconomiche e cercare di tirarci fuori i più soldi possibili. Quindi non mi interessa in realtà dove Bitcoin sarà tra 10-15 anni, però analisi tecnica a parte in questo caso tengo anche in considerazione la situazione macroeconomica e la psicologia dei mercati e quindi proprio perché mi aspetto che la situazione a livello di disoccupazione tra la metà e la fine del 2023 sarà molto alta e quindi impatterà negativamente i mercati, il fatto che tra aprile e maggio 2024 ci sarà l'halving di Bitcoin e il fatto che nella fine del 2024 ci saranno anche le elezioni presidenziali degli Stati Uniti e quello che mi aspetto è che vincerà un repubblicano che può essere o Donald Trump nuovamente oppure Ron DeSantis ecco tutta questa serie di fattori mi fa pensare che il bottom potenzialmente potremmo farlo tra la metà e la fine del 2023 e soprattutto nel periodo precedente all'halving proprio per psicologia dei mercati potrebbe esserci una risalita anche abbastanza aggressiva di Bitcoin. Personalmente mi aspetto che anche nei mercati tradizionali in primo luogo con l'S&P 500 potremmo andare a toccare il fondo sempre in questo periodo ma non mi stupirei di vedere toccare un bottom prima gli asset molto più speculativi come Bitcoin. Ultima previsione un po' più astratta è che chiunque nel 2023 cercherà di stare attento a quello che sta succedendo a livello economico e finanziario e gestirà bene le proprie finanze quindi getterà delle solide basi tra la metà e la fine del 2023 andando ad investire in asset di qualità non rimpiangerà assolutamente questa decisione perché mi aspetto che chi gestirà bene i soldi tra la metà e la fine del 2023 avrà delle ottime probabilità di avere degli ottimi rendimenti di lungo periodo anche perché giustamente molte delle previsioni che ho fatto in questo video sembrano delle previsioni negative delle previsioni di uno che guarda il lato negativo delle cose in realtà io sono molto oggettivo cerco di guardare i dati e a dire il vero in realtà sto guardando il lato positivo di questi eventi negativi perché ragazzi una recessione e un aumento di disoccupati non necessariamente sono qualcosa di negativo sicuramente sono qualcosa di negativo per chi viene licenziato dal proprio lavoro sicuramente sono qualcosa di negativo per chi ha un'attività che viene colpita negativamente dalla recessione ma ricordiamoci ragazzi la metafora delle foreste incendiate incendiate volontariamente ho fatto questa metafora qualche mese fa andando a paragonarla alla recessione quindi capita ogni tanto che per varie ragioni vengono appiccati degli incendi in alcune foreste perché magari c'è un virus ci sono dei batteri che devono essere bruciati e quindi che cosa succede che subito dopo l'incendio queste foreste risultano senza foglie completamente bruciate risultano molto brutte da vedere però in un periodo di tempo relativamente breve che cosa succede che ricrescono più verdi e forti di prima proprio perché i virus proprio perché i microbi e i batteri sono stati bruciati via ecco la recessione un qualcosa di analogo quindi le recessioni sono un qualcosa che servono al sistema economico per crollare ma poi ricrescere più forte e compatto di prima quindi signorista a voi guardare il bicchiere mezzo vuoto oppure mezzo pieno io come al solito lo guardo pieno fino all'orlo arrivato a questo punto ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti che cosa vi aspettate nel 2023 se siete d'accordo con alcune di queste previsioni oppure se non siete d'accordo come al solito se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale e dire che anche per oggi è tutto noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video grazie a tutti